La legge sulle ex province regionali prima si rimette in sesto il capoluogo a Rettuseo. L'onedì prossimo scadrà il termine per gli amendamenti al disegno di legge sulla provincia. Sarebbe il caso di valutare la proposta dell'elezione degli organi in un solo turno, evitando il turno di ballottaggio in modo da assicurare il massimo di governabilità e bipolarismo, evitando accordi sottobanco e inciuci anche tra forze politiche contrapposte e la possibile spaccatura delle coalizioni nel primo turno. Il Presidente della Regione d'altronde si elege a turno unico e non si capisce perché le province dovrebbero essere elette in modo diverso. Hanno premura di riportare in vita le cariche politiche delle ex province regionali, facciano pure se ne sono capaci, ma prima si rimette in sesto Siracusa. Così il deputato regionale Carlo Gilistro, Movimento 5 Stelle, in merito all'imminente arrivo in aula del disegno di legge sulle ex province regionali. Pensare che un ente in default come quello di Siracusa possa tornare alla normalità solo con l'indizione dell'elezione per il Presidente della provincia e il relativo consiglio non è mossa sana. Si condannerebbe così il rinnovato ente di nuovo a un prevedibile e inesorabile destino. Il prossimo arrivo in ars del disegno di legge caro alla maggioranza sarà per me un'occasione utile per tornare a lottare per l'ente territoriale della nostra provincia. È stato l'unico a dichiarare il dissesto nonostante simili condizioni altrove e desolatamente abbandonato dagli ultimi due governi regionali di centro-destra a cui ora farebbe comodo qualche altra remunerata poltrona a Siracusa, l'affondo dell'esponente 5 Stelle.